Cartoon on the Bay è il festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale che toccherà anche l'Aquila per la prima volta dal 3 all'8 dicembre. L'iniziativa è stata presentata dal presidente della regione Marco Marsilio, dal sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi, da Teresa De Santis, presidente Raicom in collegamento e dal direttore artistico Roberto Genovesi. La multisala Moviplex, grazie ad un accordo con il festival, proporrà 6 film in 6 giorni in visione gratuita sin esorimento posti, dedicati al cinema dei ragazzi e saranno presenti alcuni ospiti legati ai film in proiezione, Trash, Ladri di Natale, Tom e Jerry e altri titoli. Su tre diverse piattaforme, Rayplay, Cartoon on the Bay, Channel e MyMovies, ci saranno diversi contenuti, il tutto con un palinsesto on demand, un sistema già sperimentato nell'ultima edizione che ha fatto registrare numeri importanti. Il manifesto scelto per promuovere l'iniziativa è un omaggio a Nathan Never, Sergio Bonelli e Franco Battiato. Il direttore artistico spiega che l'Aquila e Pescara avranno un ruolo importante e questo è un regalo che il servizio pubblico intende offrire ai ragazzi aquilani. Questo rappresenta un assaggio di quello che è Cartoon on the Bay sarà in Abruzzo nei prossimi tre anni, dal 22 al 24. Abbiamo deciso di cominciare con una premessa del festival all'Aquila a Natale, proprio anche in maniera simbolica, perché l'Aquila è una città che ha sofferto tantissimo e quindi era giusto che i bambini e le famiglie aquilane ricevessero da parte dell'azienda pubblica un regalo che abbiamo costruito tramite un festival che ormai da 26 anni porta i più importanti film e prodotti internazionali d'animazione nelle case degli italiani e diciamo tra le famiglie ovunque il festival vada, perché noi ci siamo spostati dal sud al nord della penisola e per la prima volta siamo in Abruzzo. Molto soddisfatto il sindaco Pierluigi Biondi per il ruolo che si dà alla città e per la possibilità che si offre ai ragazzi nel periodo di Natale per tornare finalmente in presenza. Abbiamo voluto sposare l'idea di dare questa anticipazione attraverso la proiezione dei film che sono rivolti alle giovani generazioni per ampliare la platea di coloro che possono sentirsi a casa in questa città. Lo abbiamo fatto qualche settimana fa con il contest di Malloru e lo rifacciamo adesso con Cartoon Sound Bay che è un evento di caratura internazionale. Ci saranno ospiti internazionali e sarà un assaggio di quello che vivremo prossimamente nella città dell'Aquila recuperando l'iniziativa che era prevista prima della pandemia.